Presidente, ora l'emergenza ghiaccio sostanzialmente è passata, però per il futuro ci sono iniziative da intraprendere ora al di là della chierelle, tra maggioranza e opposizione, che quella penso sia un po' il gioco delle parti. Sì, oddio, fa un po' tristezza, penso che la politica in realtà sia altra e andrebbe fatta in diverso modo. Noi siamo intervenuti come provincia fin dal primo giorno, legate naturalmente all'apertura delle scuole dopo uno stacco particolarmente lungo che quello delle vacanze e purtroppo in concomitanza anche con un abbassamento delle temperature significativo che tutti noi naturalmente abbiamo riscontrato. I nostri uffici sono entrati subito al lavoro dal lunedì, come hanno sempre fatto anche in passato e hanno affrontato con massima dedizione tutte le difficoltà riscontrate legate in alcuni edifici più che in altri naturalmente alla condizione vetusta degli impianti. Sappiamo quali sono le condizioni delle nostre scuole, sappiamo le difficoltà economiche della provincia e quindi come è facile immaginare capita che tra 60 scuole di proprietà della provincia ci sia sempre qualcuna che purtroppo presenta qualche problema. Quello mi viene da dire è che gli uffici hanno lavorato, come hanno sempre fatto, con molta serietà cercando di risolvere il problema naturalmente nel meno tempo possibile. Poi ognuno di noi sa benissimo che quando subisce un danno della caldaia a casa, a seconda della gravità del danno purtroppo il problema si può risolvere in mezza giornata e ci possono volere tre giorni. Ma la provincia è sempre stata presente e attiva, ha fatto tutto quello che poteva fare. Naturalmente faremo una ricognizione di tutte le strutture che appunto sono nelle mani della provincia proprio perché le condizioni della maggior parte delle scuole non sono condizioni dal punto di vista del riscaldamento ma come altri aspetti in buone condizioni. Quindi vedremo le priorità, cercheremo di attivarci in modo tale che per il prossimo anno non ci possano essere problemi. Queste sono cose che purtroppo capitano ordinariamente avendo 60 edifici. Non mi piace il fatto che l'opposizione faccia accuse che sono legate poi, sono attacche che arrivano poi ai dipendenti e ai dirigenti perché questo è un tipo di manutenzione ordinaria o straordinaria che gli uffici da sempre portano avanti in autonomia. Non è certo il presidente che decide se andare o meno a intervenire quando su una scuola. Lo stesso succede per i nostri cantonieri quando alle 4 di notte in queste giornate hanno iniziato a dare il sale sulle strade e alle 8 l'hanno data per la seconda volta. Quindi questa è una macchina che devo dire ormai conosco da un paio di mesi di cui vado particolarmente orgogliosa perché vi assicuro che i dipendenti lavorano con grande senso del dovere facendo anche a volte più di quello che dovrebbero. Quindi sulla loro efficienza, sulla loro professionalità assolutamente mi dà fastidio che si venga a creare chiacchiere. Piuttosto faccio opposizione sulle scelte politiche che poi il presidente farà in seguito. Queste certo non riguardano le scelte politiche e sicuramente ne farò molte diverse da quelle che sono state frese fino adesso. Quindi mi aspetto che gli attacchi politici siano rivolti a me, sulle mie scelte e non sull'operato di cui vado particolarmente orgogliosa e ringrazio dai cantonieri a tutti i dipendenti fino ad arrivare ai dirigenti che hanno lavorato in questi giorni, complicate come tutti noi sappiamo, dando il meglio di se stessi.